Benvenuti Bene, conoscete tutti l'ipotesi della teoria, la teoria dei sei gradi di separazione. Secondo tale ipotesi, sviluppata per la prima volta da uno scrittore ungherese nel 1929, ogni individuo può essere collegato con qualsiasi altra persona o cosa attraverso una serie di conoscenze o relazioni con al massimo 5 intermediari. Vi posso fare un esempio. Io potrei avere un amico che è in contatto con un tale che a sua volta è sposato con una donna che è la migliore amica della sorella del personal trainer di Brad Pitt. Ebbene sì. E così potrei trovare tutta una serie di connessioni che mi mettono in collegamento con ognuno di voi anche se non ci siamo mai visti. Ecco, ma è il caso di dire quanto è piccolo il mondo. Ma se invece noi volessimo entrare in relazione con il mondo piccolo, il nanomondo, quanti e quali sarebbero i gradi di separazione? Oggi i scienziati studiano le nanostrutture o i nanomateriali, che sono degli oggetti che hanno almeno una dimensione inferiore a 100 nanometri, a cento milionesimi di metro. Già la nostra mente fa uno sforzo immane a immaginare degli oggetti così piccoli. Figuratevi se i nostri occhi sono in grado di vederli. E anche con un microscopio ottico, che potenzia la nostra vista di mille volte, le cose non andrebbero meglio. Questo perché l'occhio umano, così come i microscopi ottici, sfruttano la luce visibile per acquisire le immagini degli oggetti che abbiamo davanti. Bene, la luce può essere descritta come un'onda. E se andiamo a considerare la distanza tra due picchi, stiamo misurando la lunghezza d'onda, che nel caso della luce è troppo grande per andare a vedere degli oggetti nanometrici. Difatti, quando la lunghezza d'onda diventa paragonabile con l'oggetto su cui incide, con le dimensioni dell'oggetto su cui incide, beh, i contorni di questo diventano sfumati a causa della diffrazione. E quindi non siamo incapaci di vederli. Ma per fortuna noi abbiamo degli amici che possono creare una serie di relazioni che ci permettono di vedere il nanomondo. Sono gli elettroni. Infatti, gli elettroni hanno una lunghezza d'onda molto più piccola di quella della luce. E, ad esempio, il microscopio elettronico a scansione, sfruttando elettrone, ci fa vedere delle nanocose con una risoluzione media di qualche nanometro. Come funziona? Ve lo spiego subito. Immaginate i nostri amici elettroni che vengono nel vuoto accelerati per acquistare sempre più velocità. Dopodiché vengono focalizzati in un fascio molto piccolo attraverso una serie di lenti elettromagnetiche. Incontrano il materiale. Piacere elettrone. Piacere nanostruttura. E dopodiché interagiscono con esso. Vengono poi raccolti da dei rivelatori che formano in uno schermo un'immagine chiara e nitida di quel piccolissimo oggetto che vogliamo osservare. Quindi, andando a fare due conti, quanti e quali sono i gradi di separazione tra noi e il nanomondo? Beh, solo uno. La scienza. Grazie.